Aiutami a divulgare la fede in Dio iscrivendoti. Geremia Quando Geremia era ancora un giovanetto, Dio gli parlò e gli disse che era stato eletto prima che si formasse nel ventre di sua madre. Geremia non capiva quello che Dio gli stava dicendo e si oppose a questa decisione, poiché era ancora un ragazzo e non sapeva parlare in pubblico. Ma Dio gli disse Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. E Geremia cominciò a predicare nel Tempio e in ogni angolo di Gerusalemme. Fu profeta tra gli anni 627 e 587 avanti Cristo e fu costretto a vedere come Nabucodonosor conquistava Gerusalemme e distruggeva il Tempio. Era sempre al fianco dei poveri e morì in Egitto. Se la storia ti è piaciuta ti chiedo di condividere il video. Ciao e a presto. Grazie. 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 Grazie.